Più libri, più liberi. Invitiamo tutti i cittadini di San Giuliano e degli intorni a partecipare sabato 29 e domenica 30, quindi questo fine settimana, da sabato pomeriggio a domenica sera a una iniziativa che lanciamo come associazione culturale Il Picchio, un'iniziativa di carattere letterario e culturale e soprattutto popolare. Si tratta di due giorni dove ci sarà alla sala previato presso la biblioteca del comune di San Giuliano milanese l'esposizione di 3-4 mila volumi di libri usati che verranno venduti a prezzi estremamente popolari, circa un migliaio di titoli di libri nuovi in collaborazione con Libropoli e all'interno di questi due giorni faremo alcune iniziative e terremo alcune iniziative importanti. Due sono delle presentazioni animate di libri per bambini che si terranno uno sabato pomeriggio alle 5 e l'altro domenica pomeriggio allo stesso orario e cinque incontri con scrittori non di fama ma scrittori comunque importanti. Iniziamo sabato sera con la presenza di Riccardo Sedini che è il presidente di un'associazione nazionale importante di Gialli, Giallomania che viene proprio qui a San Giuliano a presentare Gianluca Veltri e Fabrizio Borgio, Gianluca Veltri di Milano e Fabrizio di Asti che presenteranno due loro libri. La domenica mattina facciamo un'iniziativa a carattere scientifico sulle intolleranze alimentari con il dottor Virduzzo che racconterà, parlerà un po' di una delle intolleranze alimentari più importanti che sta emergendo in questi anni, la celiachia. Domenica mezzogiorno abbiamo un appuntamento molto importante con la dottoressa Maria Vittoria Pichi di Senigallia che viene a presentare un suo libro che racconta una storia vissuta, sconosciuta, molto complessa, particolare, subita in prima persona quindi un'autobiografia negli anni 90 e la sera di domenica chiudiamo con due autori locali di Gialli Marco Pezzini che recentemente è arrivato anche terzo al concorso letterario Il Picchio nel settore poesia uno scrittore di San Giuliano che ha scritto già diversi libri e se ci sarà spazio presento anch'io i miei due lavori noir che sono usciti morte nel trullo l'anno scorso e chimera quest'anno. Essendo una prima iniziativa prevediamo come associazione culturale che sia un'iniziativa con mille difetti ma sicuramente con un pregio, quello di rendere accessibile a più gente possibile che vorrà venire a visitare, a vedere lo stand a vedere i libri, ad acquistare a prezzo popolare cultura e sapere sicuramente il pregio è quello di lanciare questa prima iniziativa di diffusione di massa di volumi, letture e libri per adulti e bambini quindi invito tutti i san Giulianesi a partecipare e prevediamo sicuramente di riproporre questa iniziativa in maniera sicuramente più importante e organizzata come il concorso letterario Il Picchio l'anno prossimo quindi buona serata a tutti e venite sabato e domenica 29.30 presso la sala previato della Biblioteca Comunale di San Giuliano più libri, più liberi